Che fanno le macchinine nella sabbiera? Questo è un escavatore! L'escavatore raccoglie le palline con la sua pala. Questo è un camion. L'escavatore carica le palline nel carico del camion. L'escavatore carica le palline nel carico del camion. L'escavatore carica le palline nel carico del camion. Abbiamo raccolto tutte le palline. Il camion le porta via dalla sabbiera. Questo è un bulldozer. Il bulldozer livella l'area di lavoro abbassando la sua grande pala. Fatto! Ed ecco che torna il camion. E questo è un camion per la legna. Guardiamo subito com'è fatto. Sulla parte di avanti ha un grande gancio. Sulla cabina c'è una luce lampeggiante. Con l'aiuto dei bracci si abbassa la base del rimorchio. Sul rimorchio c'è un gancio. E il bordo, sul retro, si abbassa. Scarichiamo la legna. Abbiamo scaricato la legna. Il rimorchio del camion non ci serve più. eye g�를 Mandio Bamosare la legna... Ci adoro ora... Il rimorchio del rag派... Il rimorchio del pescare. Per dire. Pior Schutz glord si è compressato con il rimorchio. Spono profit e�aph Kyle. C'è un cambiamento. 65 ausgegono il rimorchio del camion. adesso il camion della legna lavorerà con il gancio di avanti guarda abbiamo fatto un triangolo cosa succede adesso capito le macchinine hanno fatto un falò a volte si infilano urliamolo insieme dai macchinine macchinine hanno fari e lucine costruiscono e scavano consegnano sollevano puliscono sistemano soccorrono e scaricano sono tutte qui per te macchinine macchinine ruote e cabine le spingi e filano a volte si infilano urliamolo forte dai macchinine 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 hanno fari e lucine le spingi e filano a volte se si infilano urliamolo sempre qui con te guarda blaze una sabbiera gigante è troppo in alto non riesco a saltare lassù come facciamo ad entrare nella sabbiera mmm ho un piano seguitemi guarda spostiamo le costruzioni vicino al bordo e ci saldiamo sopra sono troppo grandi non ce la facciamo chiediamo a qualcuno di aiutarci ciao camion ciao come posso aiutarti aiutaci a trasportare quei pezzi sono troppo grandi nel mio carico non ci entrano ho trovato vi porto da un camion che ha un carico molto più grande del mio benissimo grazie andiamo ecco chi vi aiuterò ecco chi vi aiuterò con piacere con piacere Ah Grazie Per il resto ce la sbrighiamo da soli Prego Buona fortuna Buona fortuna Ce l'abbiamo fatta Andiamo Raggiungimi Devo andare Grazie dell'aiuto Ciao Com'è faticoso muoversi sulla sabbia Blaze Qui non c'è nemmeno una strada Non mi piace Ecco chi ci aiuterà Ciao Pala meccanica Puoi farci una strada Certo Non è difficile Come ha fatto presto la pala meccanica Andiamo Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti